Ti ostini ancora a tacere? Vedi, quando la sabbia sarà caduta tutta in questo segniello, il suo peso farà sollevare il coperchio dell'urna. E questo grazioso animaletto potrà sgusciare indisturbato dalla sua gabbia di vetro. Geniale, vero? È una mia invenzione che ho già sperimentato più volte con successo. Appena il ragno uscirà, gli basterà darti un morso per farti morire tra spasimi atroci e sarà una liberazione in confronto all'angoscia dell'attesa. E allora? Una tua parola e saremmo salve.